Nei giorni scorsi gli architetti di ArcLife hanno rinnovato le cariche sociali per il prossimo biennio. Dopo il saluto e la relazione del presidente uscente, l'architetto Caterina Piro, che ha guidato il sodalizio nella fase costitutiva attraverso la realizzazione di numerosi eventi formativi e professionali, è stato eletto all'unanimità il nuovo direttivo per gli anni 2017-2018, che sarà presieduto dall'architetto Salvo Patanè, vicepresidente Concita Santo, tesoriere Melania Guerrera e segretario Rosario Galati. Desidero continuare l'ottimo lavoro svolto dal direttivo uscente e dal suo presidente, ha dichiarato l'architetto Patanè, per promuovere negli scenari urbani dell'area ionica etnea la cultura architettonica contemporanea e il suo ruolo sociale. Tra i giovani architetti ci sono molte energie che attendono di essere valorizzate. Sarà questo uno dei primi obiettivi del nuovo direttivo.